Nuova puntata di Meme Economics, l'economia, la finanza, la politica, tutto raccontato attraverso il linguaggio dei meme e questa settimana doveva essere una settimana all'insegna delle celebrazioni per quanto riguarda il nuovo Presidente degli Stati Uniti e invece come un treno che travolge un pullman ecco che la notizia di Pfizer e quindi questa notizia, la notizia di Pfizer che annuncia il vaccino contro il Covid-19 travolge tutto quello che ha incontrato nel corso della settimana a livello di mercati e non soltanto e quindi vogliamo partire da questo meme che rende perfettamente l'idea di Joe Biden, quasi non si è parlato durante questa settimana, si è parlato invece appunto dell'annuncio di Pfizer e di BioNTech, un annuncio che ha determinato, che ha spiazzato un po' tutti quanti sia a livello di così insomma percezione della realtà ma sia anche per quello che poi è successo dopo e cioè guardate il prossimo meme, una sorta di confused stonks, inevitabilmente un meme lo dedichiamo anche a questo grafico, Pfizer annuncia il vaccino contro il Covid-19, Pfizer più 7,6%, Autogrill più 34%, ma perché mai ci si aspettava forse di più un aumento consistente delle azioni di Pfizer e non magari un aumento così forte da parte di Autogrill e invece è andata esattamente così e insomma qualcuno ha storto un po' il naso, insomma qualcuno non ci vede, c'è qualcosa di poco chiaro all'interno di questo annuncio di Pfizer anche in virtù di un'altra notizia, vediamo il prossimo meme che ci spiega che cos'altro è successo, Albert Burla, il CEO di Pfizer, notizia degli ultimi giorni, vende azioni Pfizer per 5,56 milioni di dollari, chiedo scusa, nel giorno dell'annuncio sul vaccino, con il titolo Pfizer come detto che ha guadagnato più del 7%, ci mettiamo nei panni di Albert Burla che si guarda attorno, si sente le luci dei riflettori addosso perché effettivamente un'operazione del genere può sembrare quanto meno sospetta, poi è stato spiegato che in realtà faceva parte di un'operazione che era stata avviata e annunciata già nel mese di agosto, però effettivamente non sembra proprio un caso, una notizia di questo tipo. E poi ovviamente ci sono i fenomeni del web che raccontiamo attraverso il meme dei Simpson e del sindaco Quimby che dice che questi deficienti stanno diventando più stupidi o solo più chiassosi? Più stupidi, dice l'aiutante, vogliono una soluzione per il Covid-19 ma non vogliono che a trovare il vaccino sia una casa farmaceutica perché basta fare un giro sul web, sui social e vedrete molti animali da tastiera, molti hater, molti utenti che in qualche modo hanno detto come mai proprio Pfizer, proprio una casa farmaceutica ha annunciato l'arrivo di un vaccino? Beh, insomma sostanzialmente quello fanno di mestiere se vogliamo dirla tutta. Ma andiamo avanti, andiamo avanti, non è tutto perché come è arrivato l'annuncio di Pfizer è arrivato anche il controannuncio dalla Russia, Pfizer e BioNTech, quindi un po' Germania, un po' America annunciano che c'è il nuovo vaccino e che sarà pronto e che è efficace il 90% dei casi, arriva anche l'annuncio dei russi. Il nostro, lo Sputnik V, è efficace per il 92% dei casi, però insomma i russi non è che ci abbiano così messo nella condizione di credere sempre a quello che dicono, per cui la nostra idea, la mia idea è che il vaccino Pfizer è un po' come Ibrahimovic, il vaccino russo Sputnik V è un po' come Calboni nella partita a scapoli contro ammogliati di Fantozzi. Poi noi adoriamo Calboni ovviamente, però quanto ha efficacia in campo, se la decliniamo sul calcio, è ovvio che ci fidiamo di più di Ibrahimovic. Andiamo avanti perché per chiudere su Pfizer è bene che il vaccino arrivi in fretta, perché solo per dire Pfizer, ci fanno notare gli amici di TML, si infettano 50 persone. È una pronuncia un po' complicata, tant'è che ci sono stati anche diversi meme su la S a modi zeppola di giovanotti che può magari prestarsi insomma alla pronuncia in maniera un po' divertente appunto della parola Pfizer, che è un po' la keyword di meme economy, dato che l'ho pronunciata almeno 10-20 volte. E allora facciamo così, voltiamo pagina, la regia mi anticipa e lo fa con cognizione di causa, perché parliamo anche di elezioni americane. Trump esulta al photo finish, perché comunque Trump ha recuperato parecchio terreno a ridosso delle elezioni, ma alla fine chi vince è Joe Biden. Questo è il risultato e questa è la fotografia, è il meme che ci racconta un po' quello che è successo. Ovviamente Trump non si fida, non vuole accettare la vittoria, Biden ha raggiunto comunque il numero minimo di grandi elettori per poter in qualche modo cantare, essere autoproclamarsi, insomma ed essere riconosciuto nuovo presidente degli states a partire dal 2021. E beh insomma se andiamo avanti ci sono già le prime prese in giro nei confronti di Donald Trump, che come sapete non è che fosse così simpatico a tutti. Ad esempio qui abbiamo il leader della Corea del Nord e Donaldone, hai fostato la martesa, è, diciamo che arriva poi una pernacchia e le risate sia del leader coreano e sia dei militari, questo perché ovviamente non corre buon sangue tra le due parti, ma comunque è un Donald Trump che non vuole assolutamente riconoscere la sconfitta. E infatti lo vediamo anche nel prossimo meme, ce lo immaginiamo così, ce lo immaginiamo nei panni di Carlo Croccolo nel film Tre uomini e una gamba, davanti alla Casa Bianca con il fucile, con i pallettoni pronti, come appunto l'attore, teatrale soprattutto, poi scomparso, aspettava i tre Aldo, Giovanni e Giacomo dopo il loro lungo viaggio da Milano fino al sud, insomma fino a là dove avrebbe dovuto sposarsi uno dei tre. E c'è da dire che, come dicevo in apertura, diversi leader aspettano l'ufficialità dell'esito delle elezioni americane, Putin in primis, ma anche il leader della Cina, Xi Jinping. E allora a proposito di Russia, prima ne abbiamo parlato sul fronte vaccino, adesso lo facciamo sul fronte elezioni, abbiamo visto, ormai abbiamo imparato a dividere il territorio americano tra rossi e azzurri, rossi per Trump, azzurri per Biden, beh qui c'è poco da scegliere, Putin da una parte, Putin dall'altra, Putin è sia azzurro e sia rosso. E sui colori ci arriviamo tra poco perché ovviamente dobbiamo anche parlare di Italia, che fa l'Italia? Beh l'Italia è in lockdown, è in lockdown, c'è un DPCM che poi viene declinato e perfezionato a seconda delle regioni, ma sostanzialmente noi eravamo già pronti, già preparati per il lockdown, tant'è che se vogliamo metterci nei panni del grande Le Boschi, siamo un po' tutti i grande Le Boschi, prima del lockdown, durante il lockdown, dopo il lockdown, prima del secondo lockdown, durante il secondo lockdown, cambia poco, siamo diventati tutti grandi amanti del nostro divano in qualche modo. E c'è da dire che però è un lockdown diverso rispetto al primo, rispetto a quello della primavera, perché come detto abbiamo, o meglio, il DPCM che ci ha illustrato il Presidente Conte ha diviso l'Italia in zone, ha diviso l'Italia in diversi colori, arancioni, rosso, giallo e ovviamente c'è chi non vuole sottostare a questo provvedimento e ci sono anche diverse multe, si sconfina, ecco la parola utilizzata in questo meme è quella giusta. Chi sono? Prendiamo questo episodio da lo chiamare Trinità, chi sono? Dice l'uomo col cappello, è Mezcal con i suoi ladroni, personaggio ormai mitologico, diventato cult del film, appunto lo chiamavano Trinità, ogni tanto sconfinano dalla loro zona rossa e vengono a ubriacarsi nella zona gialla e sono loro questi a cavallo, nel film in realtà vanno, sconfinano dai loro territori per andare a bullizzare in qualche modo la comunità religiosa che poi insomma è al centro del film, lo chiamavano Trinità. Ci è piaciuta questa analogia insomma utilizzata per questo meme. Ovviamente quello che rimane tra lockdown e di PCM è l'assembramento. No, no, no agli assembramenti per evitare un contagio più semplice, ma allora ci siamo domandati se dobbiamo evitare gli assembramenti, perché Roberto Mancini convoca 41 giocatori per le partite in programma questa settimana? Cioè giocano in 11, siamo in una situazione d'emergenza, lui ne convoca 41, a cui poi ne sono state convocate anche quelli dell'Under 21, dell'Under 20, così gli assembramenti si vanno inevitabilmente a creare. Quindi ci è sembrato un po' strano questo elenco infinito di giocatori, tra cui anche probabilmente giocatori che chi segue non propriamente tutti i giorni non ha mai sentito nominare. Questo perché probabilmente? Perché forse, questo è quello che dicono alcuni virologi, la pandemia potrebbe aver già raggiunto il picco della curva e quindi potremmo iniziare a sperare in maniera più così, insomma, convinta su questo fronte, anche se la sensazione è che comunque se ci proviamo a domandare, se ci proviamo a dire la pandemia non durerà ancora a lungo o magari qualcuno ce lo dice, lo sentiamo in televisione, abbiamo questa sensazione, cioè quella del campo di Olie Benji, la pandemia che non finisce mai, correvano, 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 sembrava un campo lungo chilometri e chilometri e non la dimensione esatta. Questa per anche rimanere un po' in tema e in ambito calcistico. La verità è che tutto rientra all'interno di quest'anno maledetto, che l'abbiamo detto più volte, il 2020 ci ha portato via anche personaggi importanti dello spettacolo come Sean Connery, come Gigi Proietti. Beh, come ci sentiamo noi nel 2020? Peraltro oggi, venerdì 13 del 2020, come il personaggio di Prince of Persia che chi, insomma, è cresciuto negli 80's sicuramente ricorderà uno dei primissimi videogiochi utilizzati e lui si trovava spesso in questa posizione, a penzoloni, questo per altro è una realizzazione, credo, con il Lego o qualcosa di simile. Beh, secondo me siamo tutti un po' Prince of Persia per questo 2020, ci sentiamo tutti un po' come Prince of Persia. Questo è Memeconomics e noi speriamo di avervi divertito anche questa volta, l'appuntamento è per la prossima edizione, grazie per essere stati con noi. Grazie per la visione!